I carabinieri della compagnia di Napoli Stella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli su richiesta della locale procura nei confronti di tre soggetti di Secondigliano e Miano, ritenuti responsabili di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I tre uomini, a carico dei quali sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza, sono stati associati al carcere di Poggioreale. L'indagine ha tratto origine dall'attività della stazione di Secondigliano per il contrasto allo spaccio nella masseria Cardone, zona del quartiere di Miano ritenuta da sempre la roccaforte del clan camorristico dei Liciardi, dove il 18 luglio scorso i militari hanno sequestrato a carico di gnoti oltre 11 chili di hashish e 600 grammi di cocaina pura, nonché manoscritti contenenti numeri, nomi e sigle riconducibili all'attività illecita, dalla cui analisi si è riusciti a stimare un giro d'affari pari a circa 20.000 euro al giorno e oltre 7 milioni di euro l'anno. Nel corso delle perquisizioni, una singolare scoperta, nell'abitazione di uno dei tre pusher sono stati trovati bombonieri e confetti a forma di pistola e proiettili dorati per ricordare il giorno della prima comunione di un nipote. Controlli anche a Chiaiano, dove in seguito ad una perquisizione di una palazzina i carabinieri della Compagnia Vomero hanno rinvenuto nascosta sul tetto di uno stabile una pistola semiautomatica con matricola brasa, carica e pronta a sparare. Nel corso di altre perquisizioni per blocchi di edifici svolte anche con i vigili del fuoco per la rimozione di porte cancellate, è stato trovato un minorenne evaso due mesi fa da una comunità in cui scontavo una misura cautelare per rapina. Si tratta di un diciassettenne di Scampia che, visti militare approvato a fuggire da una finestra, è stato arrestato e ricondotto in comunità.